Buongiorno a tutti, sono Donato Vittore e sono il responsabile tecnico della BMS Micronutrients Italia. Oggi siamo qui in un campo di Drupacee, precisamente al Bicocche della varietà Flupria e siamo in una fase di accrescimento frutti, periodo ideale per l'utilizzo e l'impiego del nostro formulato Kelalnur, è una miscela di macro, meso e microelementi utilizzabile per l'accrescimento dei frutti e per l'ingrossamento degli stessi. Il prodotto è rapidamente assimilabile grazie alla sua particolare formulazione nell'arco di 24-48 ore, quindi già disponibile per la pianta. La finestra di utilizzo va da questa fase 2-3 cm di calibro del frutto fino a una settimana in preraccolta, eventualmente un successivo trattamento anche dopo il primo stacco dei frutti. I dosaggi da utilizzare vanno dai 2 kg-2,5 kg per ettaro in miscela con il Kelal Omnicall, altro formulato della nostra società, è un prodotto a base di kelato di calcio. Perché utilizzare questa miscela? Per velocità, praticità ed efficacia ed il risultato garantito. Saluto gli amici di Perfare l'albero e ci vediamo in un prossimo video.